questo è un mega incidente che sto per fare guardate bene signori signori ecco qui parto partenza ma a un certo punto e ta contatto contatto boom 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 accidenti rivediamo il replay entusiasmante signori signori incidente alla partenza guardate bene ecco spaccato anche la volta nostra grazie a tutti ciao grazie